Quest'oggi parliamo di come gestire in maniera assolutamente ottimale ed efficace il proprio team da remoto mentre cresciamo la nostra attività. Non una sfida facile, dico sempre che gestire noi stessi è già abbastanza complicato, gestire gli altri è ultra complicato, farlo, quindi guidare un team di persone da remoto, quindi senza guardarsi in faccia quotidianamente è ancora più difficile, davvero è una sfida notevole, quindi quello che voglio condividere con voi oggi è una prima parte di quella che io amo chiamare la mia trust chart, quindi potremmo tradurlo il grafico della fiducia, ma prima di entrare nel dettaglio vi lascio una piccola premessa di quella che è un po' la mia storia, ecco perché quello che condividerò con voi oggi è una sorta di approccio, di metodologia che ho elaborato nel tempo naturalmente non da sola ma con l'aiuto di diversi colleghi di settore e anche non, quindi amici, colleghi, persone che ammiro molto e con cui ho cercato di fare un pochino di brainstorming per trovare una soluzione a quello che sembrava essere un problema di comunicazione che davvero mi stava mettendo in difficoltà quando ho fatto una transizione prima parziale poi totale da una situazione di lavoro in ufficio, quindi con tutto il team nello stesso ambiente, negli stessi giorni, alla stessa ora, ad una situazione invece di setup da remoto, quindi con un team sparso in tutto il mondo e tra l'altro con ben tre diverse se non di più time zones, cosa che appunto aggiunge ulteriore sfida alla sfida. In questa puntata affronto la prima parte di questo processo poi ce ne sarà un'altra dedicata alla seconda parte, ma prima di entrare nel merito, nel cuore di questo episodio voglio raccontarvi un pochino com'è stata la transizione da una situazione di team gestito in ufficio a una situazione invece di team sparso in tutto il mondo e lo farò in maniera molto molto breve. Tutte le mie avventure imprenditoriali sono cominciate e continuano in accordo, in partnership con un'azienda molto grande che prende il nome di Mindvalley, molti di voi probabilmente o sicuramente l'hanno già sentita nominare e Mindvalley ha un ufficio, anzi ormai più di uno nel cuore della Malesia, Kuala Lumpur, davvero bellissimi. Un ufficio, anzi tanti uffici che sono proprio creati come dei veri e propri parco giochi, per cui crescere ogni progetto che ho cresciuto fin dall'inizio all'interno di questa bolla è stato bellissimo ed era anche un po' equivalente alla sensazione di andare a giocare ogni giorno, come se appunto andassimo a Luna Park. Quindi quando ho deciso di tornare un pochino più vicina alla mia famiglia, anche se comunque vivo in diversi posti a seconda della stagione, a seconda del mood, però comunque il mio desiderio era quello di avvicinarmi alla mia famiglia e quando ho preso questa decisione non potevo che prendere anche la decisione di fare una transizione nel modo in cui gestivo il mio team e naturalmente il desiderio era quello di poter garantire anche alle persone che lavoravano con me la stessa libertà e flessibilità che stavo cercando per me stessa. Quindi lungi da me l'idea di lavorare da dove volevo e poi però costringere i collaboratori e i talenti del mio team a lavorare da un unico posto che poteva essere ma poteva anche non essere il posto dove volevano trascorrere più di tot mesi barra anni della loro vita. E devo dire che i naysayers, quindi tutte le persone che in qualche modo mi hanno preso per matta quando ho deciso di fare questa questa transizione non sono state poche, più che altro sottolineavano fin dall'inizio che avrei incontrato notevoli difficoltà, che avrei potuto dire addio ad una crescita costante della nostra attività e avrei potuto dire addio anche ad una cultura aziendale che naturalmente a Mindvalley è fortissima e nasce soprattutto grazie alla presenza in house, quindi alla presenza delle persone in ufficio e avrei potuto davvero dire addio a questa cosa. Devo ammettere che l'entusiasmo di poter davvero gestire tutti i miei progetti da dove volevo creandomi anche non solo soddisfando i miei desideri, i miei sogni di individuo, quindi sentendomi anche libera di poter tornare alle mie radici, quindi all'Europa in questo caso, ma anche il fatto stesso di sapere che sì era un salto nel buio ma che se funzionava davvero avrebbe creato forse una sorta di modello che poi sarebbe stato utile anche ad altre aziende simili mi ha spinto a provare lo stesso e ha superato anche un po' la paura di quelli che sarebbero potuto potuti essere tutta una serie di problemi, sfide, mal di testa che sicuramente si sono presentati che però ecco ho deciso sarebbero stati affrontabili. Quindi il trasferimento, la migrazione chiamiamola così è avvenuta prima ad un 50%, quindi una parte del mio team era presente in Malesia, un'altra parte invece aveva cominciato a distribuirsi un pochino ovunque a seconda ovviamente delle scelte di ciascuno fino a quando poi qualche anno fa non troppi abbiamo deciso di fare lo shift totale e quindi adesso siamo distribuiti in quattro diverse time zones come come vi dicevo due diversi continenti e quindi non è sicuramente una situazione semplicissima da gestire e parlo con molti business owners, imprenditori che hanno o freelance che hanno comunque che guidano comunque dei team di persone che spesso lavorano da remoto ma nella stessa area geografica il che presenta delle sfide ma sicuramente almeno la time zone è dalla loro parte per cui diventa anche più facile peraltro non solo comunicare online ma anche incontrarsi di persona laddove quando appunto hai qualcuno che lavora dall'Irlanda e qualcuno che lavora dalla Spagna sicuramente la situazione ecologistica diventa un pochino più complicata e vedersi è sicuramente anche molto più raro per cui qualunque situazione di crisis o management o qualunque situazione di comunicazione di fraintendimento è più frequente e quindi i processi devono anche essere un pochino più precisi e misurati in maniera tale proprio da creare una struttura ottimizzata che riduca al minimo queste situazioni che comunque avverranno a verificarsi perché non saranno eliminabili al cento al cento per cento una delle prime cose che decisi di sondare una delle prime cose che decisi di chiedere sondando il terreno un pochino in giro attraverso appunto colleghi del mio settore ma anche non del mio settore remoti e non remoti quando ho deciso di fare questo shift è stato appunto capire quale fosse il modo migliore per ottimizzare i miei processi perché una cosa era chiara come il sole se volevo che potessimo continuare a crescere in maniera fluida in maniera organica senza intoppi costanti e senza bloccarci dovevamo ottimizzare moltissimi aspetti dovevamo ottimizzare la nostra comunicazione dovevamo ottimizzare la logistica quindi dovevamo ottimizzare anche la misurazione la valutazione dei risultati per capire quali fossero i progressi raggiunti tutto doveva essere ottimizzato e quindi ho cominciato a chiedermi quale potesse essere quella singola cosa facendo la quale tutto il resto sarebbe diventato più semplice da ottimizzare e sicuramente non ho il libro qui credo ma questa domanda è stata tratta diciamo che ho tratto l'ispirazione per questa domanda dal libro The One Thing di Keller che è un libro che credo in italiano sia una sola cosa ed è molto 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 utile e diciamo che quella domanda mi ha poi spinto ad applicare lo stesso principio anche a questa situazione che stavo vivendo e ho cominciato a fare questa domanda a colleghi di vario tipo ed è stato molto sorprendente notare come la risposta non siano stati non lo so software tools, apps di time management che assolutamente sono importanti e che potevano magari essere la risposta più comune della serie l'unico modo per gestire la comunicazione da remoto sono app 1, app 2, app 3 assicuratevi di usare tutti questi tools questo è il modo in cui dovete utilizzarli e il gioco finisce lì magari fosse così semplice no la sorpresa è stata proprio una risposta costante peraltro che non aveva nulla a chi vedere con tools o software e la risposta è stata fiducia quindi la risposta unanime era proprio quella che nel momento in cui fosse stata costruita un rapporto di fiducia reciproco solidissimo da entrambe le parti quindi da parte del team nei miei confronti da parte mia nei confronti del team veramente saremmo riusciti a dar vita a qualcosa di magico nonostante tutte le sfide che un lavoro da remoto avrebbe avrebbe portato portato con sé naturalmente la risposta mi piacque molto molto affascinante allo stesso tempo frustrante perché la fiducia non è qualcosa che puoi replicare non è qualcosa che puoi quantificare su google analytics non è qualcosa che ti puoi ricercare i volumi di ricerca mensile su google keyword planner e quindi doveva essere per forza qualcosa che dovevo rendere replicabile qualcosa che potevo rendere anche duplicabile e misurabile non facile visto che la fiducia è un qualcosa di assolutamente intangibile e continuando nel mio percorso di ricerca quello che ho elaborato appunto è stato quello che ho definito la trust chart quindi potremmo chiamarla la chart o il grafico della fiducia che si fonda su due variabili per chi sta guardando il video in questo momento la versione video del podcast dovrebbe vedere l'immagine che arriva in sovrimpressione per chi invece sta ascoltando il podcast troverete l'immagine sotto l'episodio la trust chart che cos'è appare come un grafico secondo il quale la fiducia è una variabile la variabile di due funzioni e cresce esponenzialmente alla crescita di queste due funzioni la prima funzione che vedete nell'asse delle ascisse è la comunicazione semplificata la seconda funzione che vedete nell'asse delle ordinate invece è una valutazione dei risultati semplificata che ho chiamato simplified result assessment quindi gli acronimi sono simplified communication sc simplified result assessment s r a in questa puntata dedicata alla prima parte della trust chart affronteremo la prima variabile che è comunicazione semplificata quando ho cominciato appunto questo shift graduale peraltro da una situazione di lavoro in ufficio a una situazione invece di lavoro totalmente da remoto la situazione non è stata particolarmente rosea ci siamo trovati quasi improvvisamente con continue deadline che non venivano rispettate continui ritardi un sacco di errori onestamente avevo sì realizzato il mio sogno di poter lavorare da dove volevo non ero legata più ad un ufficio non ero legata ad una specifica area geografica ma allo stesso tempo mi trovavo veramente in quello che si può definire una modalità di continuo troubleshooting no per cui ero continuamente a risolvere crisi e questioni piccole medie grandi sempre incollata allo schermo per cui sì vivevo e viaggiavo dove volevo ma di fatto potevo essere ovunque perché l'unico posto dove sicuramente ero dalla mattina alla sera peggio di un 9 to 5 era il mio schermo il mio computer non era sicuramente quella la vita che avevo diciamo così immaginato nel momento in cui avrei fatto questo shift questa trasforma questo cambiamento questa trasformazione così mi vise a parlare col col mio coach di allora più che a parlare a lamentarmi per dritto e per rovescio di tutto quello che stava andando storto nella gestione di questa situazione e lui non mi offrì soluzioni immediate ma mi disse di andare ad ascoltarmi un audio che tra l'altro è disponibile è disponibile in inglese gratuitamente su google e che è un audio di 30 minuti di Steve Chandler che è un autore che io adoro ha scritto moltissimi libri molti dei quali tradotti anche in italiano questo audio prende il nome di expectations versus agreements quindi aspettative contro accordi le aspettative contro gli accordi se proprio vogliamo tradurre in maniera letterale e queste due parole aspettative e accordi sono stati sono il cuore appunto di questo audio sono stati poi la chiave che ha cambiato tutto nella tutto praticamente nella gestione della mia attività e del mio team. Adesso uso delle proprio quoto Chandler perché credo che queste tre questo paragrafo praticamente queste tre righe riassumano nella maniera più concisa e più completa quello che lui descrive in questo audio. Gli esseri umani tengono moltissimo a mantenere un accordo a rispettare un accordo che hanno co-creato con te quindi se tu ti siedi e chiedi a qualcuno per che cosa posso contare su di te e poi dai loro la possibilità di chiederti l'aiuto di cui hanno bisogno da parte tua per essere in grado di mantenere la promessa cose incredibili accadono. Ecco questo è un riassunto speciale che credo spieghi già il concetto quando la tua comunicazione si basa su degli accordi che vengono stabiliti da entrambe le parti possibilmente lo vedremo tra poco in formato scritto non solo verbale veramente costruisci un nuovo senso di fiducia e tra l'altro diventa anche più facile capire realmente perché una deadline non sta venendo rispettata e tra l'altro gli accordi consentono anche di capirlo in anticipo se una deadline non potrà essere rispettata perché perché la deadline viene co-creata insieme. Naturalmente richiede un pochino di sforzo la creazione di un accordo perché perché richiede un pochino di comunicazione in più quindi sicuramente ecco richiede una un mettersi a disposizione del proprio team maggiore che non semplicemente dire ok queste sono le cose da fare devono essere fatte entro il tal giorno e la tal ora però veramente può trasformare ogni cosa naturalmente migliorando anche la relazione sia con il team a livello collettivo sia con i singoli che con i singoli membri del team. Facciamo un esempio pratico per capire come funziona che forse è la cosa migliore ovviamente è un esempio ipotetico ma che è stato che ho elaborato sulla base di situazioni poi accadute realmente immaginiamo che sia mercoledì e capita che arriva un progetto importante da parte di un cliente una modifica qualcosa che un grosso cliente che avete richiede venga fatta entro venerdì tutto il team ha già la propria agenda piena le deadline per venerdì sono già state settate da diverso tempo ma questa cosa è improrogabile non può non essere fatta e quindi tu quello che fai nel primo scenario lo scenario delle aspettative sarà quello di non lo so ipotizziamo che il tuo collaboratore sia John manderai un messaggio su Slack se Slack è lo strumento che utilizzi e dirai qualcosa come hey John c'è questa novità da parte di questo cliente deve essere fatta entro venerdì massimo massimo a mezzanotte perché il cliente deve ricevere tutto entro sabato mattina quindi mi raccomando non deludermi perché non possiamo perdere questo cliente dopodiché torni a fare le tue cose questo è il primo scenario questo è uno scenario in cui cominciano a crearsi delle situazioni diciamo così di aspettativa non detta non comunicata non verbalizzata per quale motivo perché la tua aspettativa è quella che John faccia il suo lavoro e finisca tutto entro la data e l'ora che hai indicato l'aspettativa di John è quella che tu ti renda conto possibilmente che la sua agenda è già piena e per questo John può avere due reazioni diverse no perché l'aspettativa probabilmente rimane delusa nel momento in cui tu lasci no lanci la bomba lasci il messaggio dopodiché torni a fare le tue cose John può reagire quindi in due modi il primo modo in cui può reagire è quello di dire di non dire nulla e quindi non vuole deluderti vuole fare assolutamente vuole che tu sia orgogliosa orgoglioso di lui e quindi che cosa fa cancella la cena con sua moglie Claire prevista per il venerdì sera la sua cena romantica magari già inserita in calendario da giorni e decide di fare quello che deve fare perché questo cliente sia soddisfatto il cliente viene soddisfatto il lunedì ti complimenti con John perché ha fatto un ottimo lavoro e la cosa si conclude lì non saprai mai tutto il risentimento che John sta costruendo piano piano soprattutto se queste dinamiche si ripetono sulla base proprio dell'aspettativa secondo la quale John ha sempre tempo per fare cose anche che emergano all'ultimo momento anche particolarmente impegnative. Il secondo scenario quindi la seconda diciamo modalità di risposta che può scegliere John è diversa ma sempre lo stesso risultato non particolarmente piacevole. John non ce la fa decide che non rinuncia alla sua cena con Claire e alla fine non riesce a fare tutto quanto magari riesce a fare questo progetto per questo cliente ma altre due deadline che dovevano essere concluse per venerdì non vengono fatte e lunedì quello che tu ti accorgi manca comincia ad essere poi un motivo di scontro per cui chiedi a John come mai non è stato fatto questo questo quest'altro e puntando il dito contro John crei di nuovo un risentimento che se John non è che se John non ha il coraggio di portare apertamente di fronte ai tuoi occhi può veramente creare una spiacevole situazione non verbale non detta emotivamente pesante e difficile da gestire fino poi a portare a vere e proprie situazioni di spaccatura nella relazione. Vediamo allora qual è lo scenario degli accordi. Lo scenario degli accordi o di un accordo è uno scenario in cui tu mandi un messaggio il mercoledì a John e chiedi a John e c'è questo cliente che ha bisogno di questa cosa entro venerdì c'è qualcosa che posso aiutarti a fare per riuscire a rispettare questa deadline visto che è un cliente così grande e importante e John potrebbe rispondere assolutamente fattibile e sì c'è qualcosa che potresti fare cioè dirmi se va bene se questo paio di deadline che avevo per venerdì possono essere spostate a martedì mattina in maniera che io abbia tutto il tempo da dedicare da qui a venerdì a questo nuovo progetto che è appena emerso questa nuova modifica che è appena stata richiesta. A quel punto sarai tu a rispondere se la nuova deadline va bene oppure continuerete a co-creare un accordo in base a quelle che sono le esigenze di entrambi. L'accordo una volta co-creato andrà idealmente messo per iscritto questo perché in questo modo l'accordo diventa anche tracciabile altrimenti ci basiamo solo sulla memoria e non sempre soprattutto quando abbiamo mille cose da fare è la cosa migliore. Capite che nel momento in cui ogni comunicazione si basa su un accordo anziché su un'aspettativa non comunicata e non detta diventa più facile sia evitare inutili risentimenti che si basano appunto su una pura congettura perché la mia congettura è quella che John abbia abbastanza tempo per fare tutto, la congettura di John è che io non sia in grado di mettermi nei suoi panni oppure addirittura non voglia, la sua congettura potrebbe essere quella di dire il mio capo, il mio supervisor, il mio manager diretto non ha idea di quello che faccio e mi carica soltanto di cose e questo appunto genera continuo risentimento. Ma c'è un'altra cosa molto bella che nel momento in cui comunichiamo sulla base di un accordo si viene a creare, cioè diventa più facile individuare chi è un fit per il nostro team e chi invece appunto non è un fit proprio a livello culturale di atteggiamento nel nostro team, per quale motivo? Perché quando una aspettativa non viene rispettata, non viene incontrata è difficile capire di chi è stata la colpa, sono stata io troppo ferma o sono stata io troppo, non lo so, troppo buona oppure è successo qualcosa nella vita di John per cui non è riuscito a fare questo progetto oppure John ha semplicemente pigro e non ha voglia di fare nulla, sono solo pure congetture e supposizioni. Ma nel momento in cui un accordo è stato messo per iscritto, è stato co creato dalle parti e non viene rispettato, può capitare una volta per una motivazione che ovviamente dovrà essere specificata, può capitare due volte, ma quando comincia a ripetersi con costanza diventa un problema che va appunto risolto, risolto con una decisione da entrambe le parti di capire se effettivamente lavorare insieme è la cosa migliore. Quindi diciamo che in questo modo la fiducia non è più utilizzando quindi questo approccio semplificato alla comunicazione, la fiducia non è più un qualcosa di, resta comunque qualcosa di intangibile, qualcosa di estremamente complesso da costruire, da sviluppare, ma diventa qualcosa che non è poi così impossibile da replicare. Quantificare è sicuramente improbabile, ma se quantifichiamo la fiducia in termini di fluidità nella comunicazione e numero di fraintendimenti che naturalmente con questi accordi dovrebbero ridursi drasticamente, la fiducia diventa un elemento quantificabile in questo in questo contesto. Quindi questa è la prima parte della funzione. Date un'occhiata su Google a questo audio che si chiama Expectations vs. Agreements, se l'inglese non ha qualcosa che masticate nessun problema ci sono un sacco di approfondimenti anche scritti che potete tranquillamente tradurre. Quindi mi raccomando se proprio proprio non avete 30 minuti di tempo perché li avete già usati per ascoltare questo episodio di Beats Girl dovrebbe essere già abbastanza chiaro che cos'è un accordo rispetto a quello che invece è un appunto della cultura aspettativa, quello che vi consiglio di fare è provare a mettere in pratica a partire da oggi con qualunque collaboratore, membro del vostro team o anche collaboratori esterni con cui state lavorando in questo momento, mettere in pratica proprio questo principio dell'accordo. Quindi co-creare un accordo, metterlo per iscritto una volta che siete arrivati ad una conclusione che sia una sorta di win-win per entrambe le parti, che tenga conto delle esigenze di entrambe le parti e a questo punto provate a notare che cosa cambia e come cambia la qualità della vostra comunicazione oltre che la qualità dei risultati che vedrete arrivare. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Beats Academy, iscriviti alla lista d'attesa per ricevere lo splendido bonus che ho preparato per te e per sapere quando riapriranno le porte della nuova business academy italiana tutta al femminile. Puoi farlo senza impegno visitando il sito beats-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.